PAM 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 Ciao a tutti sono io Super Alex e Super Papà SONO no ecco così ciao a tutti sono io Papà e Super Alex vi schiamo ciao a tutti sono io Super Alex e… no oggi giocheremo con queste due scatole Tu quali c'è l'iette? Questa. Dami questa a me. No, io. Si, va bene, cambiamo. Indovina cosa c'è dentro la scatola, si? Tu lo sai cosa c'è dentro la scatola? Cosa lo sai? Di dove lo sai? Nooo. Io ho visto che noi bambini sapete cosa è io? Ho paura anche di mettere il mano dentro, eh? Un serpente. Secondo te, che cos'è? Un drago. Un drago. Guardate che mostro. Brutto. Mettiamo tutti qua, Alex. Faccio anche un buco. Guardate, ma questo cattivo, eh? Guardate che buco qua. Forza... E' un zombie. Io lo so, che l'ho fatto. L'ho fatto lui, il buco. Guardate cosa c'è lui? Un cavallero. Un cavallero che l'ho fatto il buco a drago così. Ecco. Si. Allora, questa è la tua. La spostiamo. Prima apriamo messi. Tiriamo, tiriamo. Mamma mia, quanti pezzi qui? Svuotiamo tutto o facciamo una alla volta, eh? Vediamo tutto. Nooo, Alex. Questo. Che cos'è? Metti, 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 metti un drago. Anche lui c'è la buca. Si. E un altro. Ma non c'è la buca. E un altro. Questo chi è? Un altro cavallero? Si. Mamma mia, ci vogliono una spada subito a lui. Se no, come fa lui contro i draconi? Ecco. Un scudo. Ma c'è la dietro su. Oh, questo. Questo lo sai? Non sapete chi è questo? È da Roma. Da Roma, si? Uno dei gladiatori. Allora dai! Svuotiamo. Eccoci! Cosa è io qua? Cosa va? Abbiamo... Due uguali. Aspetta, come uguali due? Eccoli. Si, questi uguali? No, non può essere. Si. Si. Ecco qua. Sono uguali. Abbiamo i dinozauri. No, non dinozauri. Come si chiama? Draghi. Draghi. Abbiamo. Ma quanti draghi ci sono in totale, Alex? Io adesso conto. Dai conto. Uno, due, tre, quattro, cinque. Oh, stai in piedi, eh? Draghi. Uno, due, tre, quattro, cinque. Sono cinque. Cinque draghi. Belli. Ma tu non fai fare vedere ai bambini cosa c'è dentro la scatola? No, no, no. Perchè, dai. Bambini, volete sapere cosa ne Alex? Ha? Alex, fai vedere. No, no, no. Per favore, Alex. Guarda, ti chiedono tutti i bambini. Vai vedere. Sono la scatola. Eccolo. Cosa? Eccolo. Che cosa? Vai vedere. Oh, dobbiamo aprirlo, no? Spassiamo, spassiamo. 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 Poi aprirlo. Poi aprirlo? Si. Poi aprirlo. Poi aprirlo. La scatola serve? No. Via. Eccolo, abbiamo liberato. Vai vedere cosa c'è altro. Alex? Non faccio vedere. Volete sapere? Alex, dai, dai, Alex, dai. Tira via, tira via. Che bello. Oh, altri due dinozauri. Ok. Facciamo la magia, Alex. Si. Che tiriamo dalle scatole con la magia. Uno. Due. Tre. Non funzionato. Riproviamo. Una. Aspetta. Uno. Due. Tre. Non funziona. Allora è il tuo cappello che non toglie la magia. Non va? Allora fai te. Proviamo. Uno. Due. Tre. Abbiamo aperti. Con la magia. Finalmente. Ecco, tu dici che... Ah sì, il cappello non funzionava. Da te ho funzionato. Fai vedere ai bimbi. Questa è dove è la testa di questo? Eccola. Ah, ecco la testa. Ma dove è da qua? C'è la testa. Oh, eccola la testa. E questo è un altro, più o meno simile, con la testa piccolissima. E adesso giochiamo. Adesso giochiamo. E qui, questo è un altro. Ciao bambini. Noi siamo morti già tanti tanti milioni anni fa. Le rossi sono stati forti e grandi. Io sono stato erbivoli. Chi significa erbivoli, Alex? Quelli che mangiano l'erba. Anche io sono stato erbivoli. Anche io. E noi mangiamo l'erba. L'erba. Eccoci. Allora, avete visto? Cosa? Qui, qui? Scaglate la piccola e voi di pio sul. Ragazzi, tutto ci sono due con i miei dragoni tutti. Eh? Con tutti dragoni. Già sceglate le pio, tu. Odi, Alex? Odi, Alex? Sch Choetevi sotto i commenti. Chi di sotto scriveti cosa vi piacciono di pio. Qui? oppure le rossi. Guardate i nostri nuovi video. Noi con Alex vi salutiamo. Ciao tutti! Sìììì!